Un cittadino di Bressanvido è stato denunciato oggi a piede libero per interruzione di pubblico servizio dai carabinieri dopo aver dato in escandescenze questa mattina al centro prenotazioni UL7 Amarostica. L'uomo, operaio albanese di 40 anni, con dimora a San Drigo intorno alle 9, si trovava al centro prenotazioni del distretto sanitario quando ha dato in escandescenze interrompendo il servizio degli addetti alle prenotazioni, ha allontanato fuori dalla sala d'aspetto diversi utenti in attesa del proprio turno, pretendendo l'immediato rilascio delle tessere sanitarie in favore dei propri familiari. Gli addetti alle prenotazioni hanno chiamato il 112 facendo intervenire i militari dell'arma, facendo desistere i quarantenne dal suo comportamento esagitato. Il servizio è potuto riprendere con regolarità per l'uomo. Scantata la denuncia.